Era Antonio Piromagli l'erede designato di Pino Facciazza. Lui, stabilitosi a Milano per volere del padre, aveva preso le redini del potentissimo clan di Gioia Tauro, decimato questa notte da un decreto di fermo emesso dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria nei confronti di 33 persone. E' con l'operazione Provvidenza che i carabinieri del comando provinciale Regino hanno scoperto i nuovi assetti della cosca egemone sulla Piana di Gioia, in grado di penetrare nel tessuto economico non solo calabrese ma anche italiano e statunitense. Uomo di fiducia di Antonio Piromagli e l'imprenditore Pasquale Guerrisi, nel cui ufficio era stata posta la base operativa del clan. Dagli atti viene fuori il forte interesse dei Piromagli per i terreni attigui al centro commerciale annunziata. Mazzaferro e Guerrisi, fra l'altro, avrebbero pianificato l'omicidio di Michele Zito, braccio destro di Domenico Stanganelli, persona già organica e mole, per dissidi sorti sul traffico di cocaina al porto di Gioia Tauro. Delitto sventato solo dall'intervento massiccio delle forze di polizia a presidiare il territorio, insieme alla carcerazione dello stesso Zito. Gli uomini di collegamento con Milano, invece, erano Francesco Cordie e Francesco Sciacca, cognati di Antonio Piromagli. Per loro una precauzione servita a poco. Comunicavano solo con i classici pizzini, pensando di non essere scoperti. Consolato e Minniti, per la CNews24.